Si guarda con ottimismo alla proposta di legge che la Camera ha approvato, che prevede un complesso di misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cosiddetto cyberbullismo. Una proposta di legge che adesso dovrà tornare al Senato per l'ultima lettura. È stata approvata in prima lettura, quindi occorre ancora l'approvazione definitiva al Senato, quindi i tempi speriamo però siano il più brevi possibile. È un dibattito di questi ultimi mesi, proprio la riforma del bicameralismo, speriamo in questo caso l'attuale bicameralismo funzioni e si arrivi presto a una definitiva approvazione, perché è una legge di cui si sente il bisogno, perché gli ultimi fatti di cronaco sono molto pesanti. E all'interno del testo sono sei i principali punti che sono contenuti. L'identikit del bullo, un docente antibullo in ogni scuola, la stretta sullo stalking telematico, l'ammonimento da parte del questore, un piano d'azione e monitoraggio, ma soprattutto l'oscuramento del web. Chi è vittima di cyberbullismo può chiedere al titolare del trattamento di rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Una parte di questa legge pone in atto alcune norme che riguardano il diritto all'obbligo, cioè la possibilità delle persone di richiedere la cancellazione o della propria figura dalla rete, quindi dai social network, ma anche di determinati tipi di fotografie, immagini, contenuti che le riguardano. E credo che sia un diritto sacrosanto, perché rischiamo altrimenti davvero di arrivare a situazioni drammatiche come quelle che abbiamo vissuto recentemente.